Io credo che l'AMI sia invece il concentrato di vari saperi, di vari impegni, io credo di essere stato fortunato ad avere una grande squadra, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi ti ringrazio per i complimenti, ma che io a questo punto rilancio l'intera associazione e del resto, qui siamo a Napoli in un convegno bellissimo, che ha visto Valentina come protagonista unica di un'organizzazione straordinaria. Parlare dopo Maurizio, che tra l'altro scrive le prefazioni dei miei libri, è veramente molto difficile, perché il sentimento che metto ogni volta quando scrive e quando legge è qualcosa di unico. Io qui come Presidente, che mi ricordo ai soci dell'AMI, quindi non soltanto, ai colleghi in sala, vorrei fare un po' il reso punto di quello che è la nostra associazione, cosa vogliamo fare, quali sono i nostri progetti, perché dopo aver sentito la relazione di Davide Dura, ancora di più sento l'esigenza di dare una svolta, di contribuire a dare una svolta culturale a questo Paese. Così come quando ho sentito la relazione del Dottor Celentano, che anche lui ci ha parlato di empatia, di laicità della nostra attività. Noi siamo un Paese molto strano, siamo un Paese che vive su un binario morto del mondo occidentale. Siamo italiani, con tutti i pregi e purtroppo anche con tutti i difetti. Io spesso viaggio, mi trovavo 20 giorni fa ad Amsterdam per una causa di soltazioni internazionali minori, quindi ho spesso contatti con gli avvocati stranieri, nel 2011 organizzavamo un congresso internazionale del diritto di famiglia e vi devo dire che ogni volta che vado all'estero mi sono sempre in difficoltà, perché pulpo avvenendo da una culla di civiltà e dalla culla del diritto uguale in Italia, oggi mi rendo conto che noi siamo il medioevo dell'Europa. E vi spiego perché. Noi abbiamo introdotto la legge sul divorzio con 150 anni di ritardo rispetto alla Francia. Siamo stati gli ultimi in tutto il mondo occidentale a introdurre le unioni civili e l'ami ci ha messo la faccia da sola in un momento difficilissimo, tra l'altro io vivendo a Roma, quindi a 300 metri dal Vaticano, con Monica Cirinama, con tantissime altre figure anche non politiche che hanno lottato con me e io con loro per introdurre la legge 76-2016, per la quale poi c'è scritto anche un manuale con la dottoressa Anna Maria Fasano. Quante battaglie abbiamo dovuto affrontare in sette anni per introdurre questa legge sull'unione civile? Quante ne ho sentite? Quante lettere anonime? Quanti attacchi feroci sui social? Ho subito io personalmente, ma l'intera associazione, semplicemente perché abbiamo detto che l'amore è amore e basta. È stato difficilissimo, è stato un sentiero tortuoso, fatto di polemiche, fatto di attacchi personali, anche di dibattiti televisivi, in cui a un certo momento non sanno più neanche come ribattere davanti alla stupidità degli argomenti che venivano sollevati. Tu sei il nemico della famiglia perché tu vuoi le unioni civili. Questo era il livello degli argomenti avversari. Il livello talmente basso che me lo sono ritrovato quando abbiamo combattuto per introdurre in Italia il divorzio breve. Cioè quando a un certo punto io ho segnalato alla stampa nazionale, insieme all'ANI, che c'erano 10.000 coppie in Italia che andavano in Romania a divorziare con 3.000 euro, praticamente tutto il pacchetto, andata, ritorno, il viaggio, la traduzione, più la postilla e poi tornavano in Italia. Depositavano la sentenza apostillata presso l'ufficio del Stato Civile e quella sentenza era valida, efficace a tutti gli effetti. Aviamo quindi il turismo divorzile. Finalmente la politica si accorge che non era più possibile di avere l'atteggiamento paternalistico di imporre agli italiani tre anni di attesa prima di poter poi divorziare. Da adesso qual era l'argomento che l'ANI aveva in qualche modo speso durante i vari convegni che parlavano di questo? Come si permette allo Stato di interferire su una questione così personale e impormi di dover riflettere? Tu devi riflettere perché non si sa, forse domani potrà recuperare il matrimonio. Voi capite benissimo a che punto siamo. E ancora oggi comunque c'è stato il compromesso perché ancora oggi c'è la separazione. I principi non sono una questione di quantità, o sono giusti o sono sbagliati. Allora non è che tu passando da tre anni a sei mesi hai risolto il problema. Tu comunque mi impori di pensarci, tu non mi devi imporre di pensarci un secondo. E siamo insieme alla Palonia, in Malta, in tutta l'Europa, al di là dell'Unione Europea, ad avere ancora la separazione. Non c'è stata un'azione di coraggio, neanche purtroppo, lo devo dire, spero che il ministro Cartabia avrà questa forza, non c'è ancora la forza di dire abbrochiamo una fase del processo, quindi una fase patologica del matrimonio, che non serve a niente perché soltanto nello 0,001 dei casi, le persone che hanno chiesto la separazione cambiano l'idea. Oddio, questo potrebbe servire a noi per un fatto tipicamente speculativo, certo che si fa due cause, ma non è così. I diritti civili devono essere anche pilotati, proiettati in un procedimento, in un processo che abbia un senso. E quindi è stata varata la legge sul divorzio breve. Poi abbiamo combattuto e stiamo combattendo ancora oggi la legge dopo di noi. Vedete, questo è un paese, perché vi ho detto che è un paese in un binario molto, perché è un paese che a un certo momento, più che di barriere architettoniche, soffre di barriere culturali. Ancora oggi purtroppo questa è una legge che è in qualche modo emendata, spiegata, arricchita, ma comunque c'è, c'è. Che cosa succede? Ragazzi diversamente abili, qualcuno ancora continua a chiamare handicappati, diversamente abili quando domani non avranno più i loro genitori, mi riferisco soprattutto ai malati di autismo. C'è un problema serio questo paese, è la solitudine, tutto ciò sta sulle spalle delle famiglie e quindi apri di cielo, altra battaglia, siamo riusciti a ottenere meno cruenta ovviamente delle unioni civili, meno cruenta del divorzio breve. Ma questo è un altro problema serio, questo è un paese ancora pieno di barriere architettoniche, ancora sali nelle aule istituzionali e non ci sono i mezzi, gli strumenti per salire qui, per salire in queste aule. Chi è su una carrozzella deve essere trasportato in braccio dalle persone, uno porta la carrozzella, poi lo rimette al piano. e quante volte lo vedo nel tribunale di Roma io questo? Vedo, ci sono due colleghi bravissimi che sono paraplegici, trasportati a braccio come dei sacchi davanti a tutti, stiamo parlando di Roma. Ed è questo il problema, cioè l'avvocatura nella società, l'avvocatura nella democrazia, l'avvocatura della Costituzione, deve farsi portavoce di queste istanze, come abbiamo sempre fatto mettendoci la faccia. Io credo che non si dovrebbe fare un'udienza in un tribunale dove esistono le barriere architettoniche. Non dovremmo accettare che un nostro collega debba essere trasportato a braccio in braccio come un bambino perché non esiste un scivolo, non esiste un ascensione a norma di legge, non esiste un bagno con le porte più larghe. noi non dobbiamo andare in tribunale, noi non dobbiamo andare in tribunale dove non esistono gli asili unito, dove le colleghe donne, le nostre colleghe donne, per forza donne, che hanno messo al mondo figli, devono rinunciare a una fetta importante a loro carriera perché non sanno come fare. Noi siamo un paese incivile, ma in Italia non si fanno più figli, abbiamo un tasso di natalità tra i più bassi d'Europa insieme alla Slovenia. E certo, io oggi fare un figlio è un gesto di coraggio, di egoismo direi. Non c'è alcuna attenzione verso i temi della famiglia. Dicono che noi avvocati divorzisti siamo gli amici della famiglia, si dimenticano che il problema vero della famiglia non è quando l'avvocato deve ricevere una coppia che ormai non ce la fa più. Il problema è stabilire come incentivare l'amore, lo stare insieme, a mettere al mondo i figli. Come si fa oggi? In realtà dove un affitto di casa equivale a un intero stipendio medio di un cittadino, dobbiamo combattere per questo. Io credo che i consigli dell'ordine, il CNF, le grandi associazioni come la nostra, dovrebbero lavorare su questo. Noi abbiamo lavorato molto sulle varie opportunità, adesso abbiamo creato proprio un comitato importante all'interno della nostra associazione, io l'ho voluto insieme a tutti i colleghi, perché noi in ogni tribunale, in ogni circondario, in ogni dissetto dobbiamo cominciare a farci sentire, perché la questione delle varie opportunità non riguarda soltanto quello che è il reddito medio dell'avvocata rispetto all'avvocato, perché quello pure è un problema serio. È il problema di quante avvocate possono essere anche mamme in tranquillità, senza dover rinunciare ai propri clienti e ai propri orari di studio, perché in molte realtà gli asili finito praticamente sono un ricordo, sono talmente pochi che non sono sufficienti. Questo è il ruolo dell'avvocato, il ruolo sacro dell'avvocato e soprattutto mettersi addosso a questi problemi. E così quando io conobbi qualche anno fa, io rispetto a 10 minuti e ho finito. Conobbi qualche anno fa Mina Webby e me ne innamorai. Sentì la sua storia. A un certo punto le chiesi di raccontarmi un po' di quello che è successo con Pier Giorgio e mi sto riferendo al fine vita, altra tragedia, altra battaglia, altre polemiche. E quindi sentì Mina Webby e le parlai a un certo momento e dissi io vorrei parlare come ami del fine vita, del suicidio assistito, dell'eutanasia, della vicenda che ha riguardato Pier Giorgio Webby. E quindi là abbiamo avuto la fortuna di conoscere l'associazione Coscioli, quindi anche la fortuna di conoscere Gianni Baldini, che poi ho fatto in modo che diventasse presidente dell'Ami Toscana. Perché? Perché da quel momento c'è stata proprio una svolta culturale per la nostra associazione. Cioè non siamo più gli avvocati che si occupano di separazione e divorzio e basta. Ci occupiamo di tutto il panorama dei diritti civili, quindi della vita ma anche della morte, perché anche la morte ha bisogno della sua dignità. Perché qua vivere, io l'ho detto e l'ho dichiarato a chiarire lettera alla Corte Costituzionale, quando ho fatto il relatore, quindi una sede più unica che era ha detto, voi non vi rendete conto che voi pensate che la vita sia soltanto il battito e l'ora. La vita non è il battito e l'ora. La vita è la dignità. La vita è non dipendere sempre da tutti. La vita è anche fatta di scelte, come la morte. Noi siamo un paese in cui ci sono mille suicidi all'anno di malati terminali. Quindi l'eutanasia c'è, l'ho detto ad Amato e tutti gli altri giudici della Corte. Voi lo sapete che l'eutanasia c'è, ma è l'eutanasia clandestina come è stato l'apporto clandestino per secoli nel nostro paese. E facciamo finta di non vedere e di non sapere. Voi sapete benissimo che tanti medici di famiglia, tanti farmacisti per pietà cristiana ti danno una fiala in più di morfina. Sapete che significa una fiala in più di morfina? Significa eutanasia. Allora perché non colmiamo questo vuoto? Noi abbiamo avuto il turismo della morte, abbiamo avuto il turismo divorzile, il turismo procreativo per la procreazione medicamente stessita si andava a Barcellona. Per di volete esiste ancora un fiume d'affari dell'estero che non vi dico. Turismo divorzile, adesso c'è il turismo della morte. C'è gente che va a Cancevione ogni giorno a morire. Allora che cosa deve fare l'AMI da adesso in poi in tutti i movimenti? Cominciare veramente a pensare al di là di quelle che sono tutte le questioni importantissime degli assegni di mantenimento, la casa comodale, l'affidamento condiviso che sono comunque pane quotidiano nostro. Noi dobbiamo in tutte le sezioni, per tutti i soci che ci stanno sentendo in diretta in tutta Italia, da questo momento in poi una metà degli eventi dell'AMI in qualsiasi distretto da Bolzano a Massalato a trattare esclusivamente di questi temi. Dobbiamo cambiare marcia e cominciare a capire che l'avvocato della famiglia è soltanto l'avvocato dei diritti e non soltanto l'avvocato è la fase patologica della famiglia. Se riusciamo a fare così daremo sicuramente una svolta al nostro Paese. Vi ringrazio. Grazie Presidente Cassani, come al solito interventi sempre accorati, grazie davvero per il tuo impegno.